Onorevole Barbuto, c'è bisogno di fare chiarezza e di capire che in realtà questo territorio ha bisogno di essere supportato. Ma questo governo che intenzioni ha verso Crotone e il territorio? Mi pare che le intenzioni siano abbastanza chiare e non sono cambiate. Il governo ha molto attenzionato la Calabria fin dai primi giorni del suo insediamento. Vi ricordo che il ministro Toninelli è venuto nel corso di questi mesi per ben cinque volte. L'ultima l'altro giorno a Gioia Tauro dove ha risolto una vertenza che si trascinava oramai da parecchio tempo con esiti disastrosi per il comprensorio e quindi per i lavoratori. Per quanto riguarda Crotone nello specifico voglio ribadire che l'intenzione del governo era quella di portare avanti il territorio che non è minimamente cambiata nonostante quelle che sono state le insinuazioni, gli articoli di stampa, gli attacchi che abbiamo ricevuto in questi ultimi giorni. Lei diceva che era intenzione, ma quando parliamo dell'aeroporto, della 106, delle ferrovie, noi siamo completamente isolati, quindi non possiamo pensare solo alle promesse. Abbiamo bisogno di risposte concrete con progetti e fatti? Allora sicuramente noi non abbiamo mai fatto promesse, noi ci siamo sempre impegnati concretamente e effettivamente. Io credo che negli ultimi tempi probabilmente mai, come negli ultimi tempi, l'attenzione e i riflettori si siano stati accesi su Crotone e sul suo territorio. Intanto cominciamo con il dire che per quanto riguarda l'aeroporto, nello specifico, questo stanziamento che è stato effettuato in legge di bilancio dovrebbe essere seguito da quella che è la conferenza dei servizi, come tutti sappiamo oramai, nella quale verranno individuate le rotte, nella quale verranno individuate anche le categorie e in particolare in relazione a quelle che sono le difficoltà che vive il nostro territorio. In realtà però nel momento in cui si invia al Ministero che ha dato la massima disponibilità non già a quello che viene richiesto ma dei semplici questionari che non sono assolutamente determinanti nella scelta delle rotte, sto parlando nello specifico della rotta per Roma, non ci si può poi lamentare. Il problema è che appunto per quello che io ho saputo, perché in questa settimana poi mi sono ovviamente recata al Ministero e ho parlato con i funzionari competenti, ho sentito anche la segreteria del Ministro, mi risulta che la Regione e la SACAL siano stati convocati per lunedì urgentemente proprio per chiarire questa situazione che è stata chiaramente malinterpretata e devo dire strumentalizzata politicamente in maniera veramente vergognosa.